Come sono andate le vacanze? Una sosta che è servita a recuperare energia? Sì, diciamo di sì. Noi siamo professionisti, siamo lo stesso allenati, quindi siamo carichi per affrontare la sfida di domenica e oggi è stato un ottimo test per la partita. Come state preparando la gara in vista con la Vispesaro il 12 di gennaio? Sì, diciamo che siamo basati soprattutto questi giorni su carichi di lavori importanti, sulla forza, sulle partitine a pressione. Personalmente cosa ti aspetti da questa stagione? Diciamo che io sono molto carico per questa squadra, è una grande città che merita soprattutto palcoscenici importanti e speriamo di continuare a vincere, di far bene soprattutto per i tifosi e a livello personale spero di portare a dare una mano ai ragazzi, di aiutarli e di raggiungere comunque il traguardo dei playoff.